Siamo in Borsa Italiana con Raffaele Lerusalmi, amministratore delegato di Borsa Italiana per Affari Italiani. Buongiorno. Quali sono oggi il primo giorno di quotazione di SPACS? Quali sono i progetti di Borsa Italiana nei prossimi mesi? Quali sono le novità e gli appuntamenti? Diciamo che i prossimi mesi si caratterizzano con un grandissimo numero di società che dovranno arrivare in quotazione. Questa è la prima dell'anno, un grande successo. La seconda verrà colta in Europa di tutti i tempi, quindi un record in qualche modo. Crediamo che anche le prossime quotazioni saranno di grande interesse. Una delle prossime sarà Italo, NTV, treni ad alta velocità e credo che sarà una quotazione di grande successo. Poi ne seguiranno molti altri. Speriamo che quest'anno potremo battere il record di tutti i tempi per il numero di votazioni e siamo molto ottimisti. Raffaele Lerusalmi di Borsa Italiana per Affari Italiani. Grazie.